Attenzione, l'abbiamo presa adesso, non vedeva l'ora di essere intervistata questa ragazza, era qui che scalpitava, stai calma, stai calma, adesso ti intervisto, continuiamo a insistere, la nostra, c'è il marito, no non sto spingendo, sono lontano eh, attenzione il marito è gelosissimo anche, fatti, fatti, dimmi un buon proposito per il 2015 nei confronti di tuo marito, no, niente, 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 non dà propositi, niente da fare? Niente da fare, ok, vediamo il marito se sei più bravo, allora attenzione, marito un buon proposito per il 2015? La pace del mondo, la pace sì, vede, questo parteciperà a Miss Universo, Miss Italia, passo un po' più tardi, ok, attenzione passerà più tardi da Miss Italia, come ti chiami? Ciprian, come? Ciprian, ah Ciprian, vieni da Cipro? No, metti la Cipria? No, ok, sei sposato con lei? Sì, almeno sì, l'abbiamo beccato, ragazzi, facciamo tanti auguri in telecamera, dai, auguri, buon 2015, sì, fantastico, che amici bastarde!